Filippo Busina, qual è il suo giudizio su questa legge di stabilità? Ma è assolutamente negativo, abbiamo visto che non solo è piccola, insufficiente, è assolutamente inadeguata, ma sono riusciti a fare il peggio del peggio con le solite marchette politiche, i finanziamenti a pioggia per cause assolutamente inconsistenti, soprattutto al Sud. E direi che questo che ha dato il Governo, soprattutto ieri sera al Senato, è stato il peggior spettacolo, il peggior contributo negativo che potesse dare all'idea stessa di democrazia. Se questa è la democrazia, io dico che è meglio qualsiasi altra cosa. Il caos più totale, l'inettitudine più totale, la confusione e la mancanza di soluzione ai problemi assoluta. In particolare si attendeva qualche risposta in più per comuni e imprese? Le imprese sono state lasciate all'asciutto ancora una volta, con il contentino della deducibilità dell'IMU sull'IRAP per il 30%, e i comuni sono stati ancora una volta dimenticati, lasciati nell'incertezza più totale, tanto è vero che l'IMU, la seconda rata dell'IMU, non si sa ancora che fine faccia, e siamo a meno di ormai 15 giorni dalla scadenza. Grazie.